Vincenzo Zito è il sindaco di Montescaglioso. Con il concerto della speranza sono stati raccolti 10.000 euro che oggi sono stati consegnati ufficialmente al sindaco pezzanesi e alla città di Tolentino. Una testimonianza vera e concreta della vicinanza di un comune all'altro danneggiato dal sisma e accomunati da San Nicola. Sì, certo. San Nicola ci accomuna, ecco perché questo percorso di vicinanza che ha visto la mia comunità, i miei concittadini partecipare attivamente insieme al mondo dell'associazionismo e della cultura perché c'è anche una banda musicale che ha partecipato, attivamente affinché si raggiungesse questo obiettivo. È una goccia in un mare di esigenze, però è una testimonianza di vicinanza, e quella è l'importanza, di vicinanza morale alla comunità di Tolentino. Montescaglioso è una città che ha tradizioni antichissime, una bellissima abbazia da visitare e in questo caso ha voluto proprio testimoniare la propria vicinanza a Tolentino. Certo, la nostra storia dimostra quanto è importante storicamente la nostra comunità. Noi speriamo che questa testimonianza vada per esempio al restauro di un bene culturale, o meglio alla compartecipazione perché capiamo che non si può pensare di restaurare un bene culturale con 10.000 euro, però compartecipare al restauro di un bene culturale sarebbe per noi interessantissimo come segnale anche da parte di Tolentino di questo atteggiamento positivo dalla parte della nostra comunità montese di Montescaglioso. Da sottolineare che alcuni dei vostri volontari proprio all'indomani del sisma sono stati presenti a Tolentino proprio per aiutare le popolazioni in difficoltà. Certo, noi abbiamo due associazioni di protezione civile a Montescaglioso, l'AMPAS e la Croce Amica hanno partecipato attivamente e direttamente già loro personalmente qua a Tolentino a supportare nei primi momenti di difficoltà. Il sindaco di Montescaglioso, come dire, rende la visita ma dona anche 10.000 euro a nome della sua comunità raccolti grazie ad una serie di iniziative benefiche che appunto il comune materano ha organizzato proprio per aiutare le popolazioni dolentinati. Sì, è un altro bellissimo gesto che ci ha riempito il cuore e continua ad emozionarci perché abbiamo trovato in quel comune, in quella comunità, una bontà, uno spirito di fratellanza e di aiuto senza precedenti. Quindi siamo stati due giorni, il 3 e il 4 di gennaio, ospiti di Montescaglioso, del sindaco Vincenzo Zito, persona stupenda come la sua amministrazione e i suoi concittadini e abbiamo avuto modo anche di conoscere un po' la città che è molto bella e che ha una via dedicata a San Nicola da Tolentino. Siamo un'unica famiglia che la parte buona della nostra società, che è preponderante e sempre pronta a spendersi, a mettersi in gioco per aiutarsi vicendevolmente e per dare una mano consistente su tutti gli aspetti, un supporto a coloro, come nel nostro caso, che affrontano delle emergenze importanti. Ringrazio naturalmente la banda di Montescaglioso e i loro responsabili per questo bellissimo concerto che è stato organizzato per Tolentino, riuscitissimo, dove erano presenti anche tutte le autorità massime a livello amministrativo e politico della regione e anche a livello governativo. Quindi ringrazio tutti perché è stato un momento di arte, di musica, di esaltazione assoluto e di altissima qualità, però le note che sono scaturite in quel concerto sono anche note di umanità, di fratellanza, di aiuto reciproco.